Si prepara una dose e poi si inietta la droga sotto lo sguardo di alcuni passanti che increduli decidono di immortalare l'accaduto. È successo ieri sera a Campo di Marte, qui ci troviamo di fronte alla farmacia comunale. Ancora consumo di sostanze stupefacenti a tutte le ore del giorno e sotto lo sguardo dei passanti. Proprio nella zona di Campo di Marte, circa un anno fa, erano stati installati cancelli contro spaccio, degrado e microcriminalità. Una soluzione che era stata poi adottata anche in altre zone di Arezzo, da Saione alle centralissime, via Crispi e via Margaritone. Altre segnalazioni invece ci arrivano dal vicino parco del Colle del Pionta, dove è ancora evidente il consumo di sostanze stupefacenti. Queste siringhe abbandonate sono state trovate di fronte alla palazzina del servizio veterinario dell'Asla Toscana Sud-Est. Alcune settimane fa avevamo documentato anche noi, proprio in quell'area, la presenza di ancora molte siringhe. In quell'occasione alcuni frequentatori del parco ci avevano però raccontato che dopo il Maxi Blitz la situazione era decisamente migliorata, anche se l'appello alle forze dell'ordine e all'amministrazione comunale restava quello di non abbassare la guardia. Grazie.